Morì dopo Graviustioni nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre, otto indagati. Guardone scoperto a Pian del Lago, nota dell'Associazione Polisportiva Alba Verde. Sommatino, traffico e combustione di rifiuti, in sei agli arresti domiciliari. Momenti di paura nel centro storico di Caltanissetta per una notevole fuoriuscita di fumo da una rivendita di kebab. Due furti notturni a Caltanissetta, nelle vie San Giovanni Bosco e consultore Benintendi. E' tempo di muffolette e biscotti di San Martino, nel segno di un'antica tradizione siciliana. Bentrovati, due nuovi assessori al comune di Caltanissetta, no comment di Giancarlo Cancelleri. A Palazzo del Carmine arrivano Ettore Garozzo e Ivan Rando. Esce Luciana Camizzi. Sale a nove il numero degli assessori comunali a Palazzo del Carmine. Come un fulmine a Celsereno rese note le nomine di Ettore Garozzo e Ivan Rando, entrambi imprenditori. Non fa più parte della giunta Luciana Camizzi. La notizia che si è sparsa rapidamente in città e la discussione del momento sui gruppi social che riguardano Caltanissetta. Diversi gli attivisti del Movimento 5 Stelle che esprimono disappunto, non condividendo in primis l'uscita di Luciana Camizzi, che la nostra redazione ha contattato nel tardo pomeriggio. Ha preferito non rilasciare dichiarazioni al momento. No comment anche da Giancarlo Cancelleri, che è l'anima dei 5 Stelle a Caltanissetta e non solo. Intanto conosciamo da vicino i due nuovi componenti della giunta. Ettore Garozzo, classe 1970, si occuperà di transizione ecologica, mobilità, toponomastica, partecipazione, centro storico e quartieri. A Ivan Rando, classe 1973, bilancio, partecipate, risorse umane, polizia municipale e sicurezza nei luoghi di lavoro. Come matura questa nomina? Matura, intanto la maturazione la dovremmo chiedere al sindaco, in primo luogo, a chi ha elaborato questa proposta. Io ti posso dire nient'altro di come la ricevo, ovviamente. La ricevo come sicuramente un elemento di stima per quello che faccio per questa città, l'amore che dimostra la città nel promuoverla e nel cercare di non farla vivere alla deriva dagli altri cittadini, che forse la amano un po' meno. Quindi credo che l'area nella quale si è fatta questa scelta sia questa qui. Da che parte sta politicamente Ettore Garozzo? Il mio cuore batta a sinistra credo che sia fuori di dubbio. Io non ho tessere di partito da credo almeno 20 anni, perché non mi interessano soprattutto le dinamiche di partito o movimenti che siano. Assolutamente io sono orgoglioso di avere la mia testa e la mia lingua, che non metto nel cassetto in nessuna occasione. Quindi io mi ritengo una persona sicuramente di centro-sinistra, ma credo che a questo punto per governare una città e per dare il proprio contributo in città, piccole come quella di Cassini 7, a poco ponti lo schieramento politico, perché soprattutto in questo momento di grande confusione c'è bisogno di ritornare alla BC della politica, fare diventare la politica servizio per la collettività e trasformare l'agire politico in servizi concreti. Io credo che questo sia l'unico passaggio. Poi le grandi discussioni, spesso vuote tra destra e sinistra, poco contano in questa circostanza sicuramente. Di cosa si occuperà Ettore Garozzo nella giunta comunale di Palazzo del Carmine? Sicuramente ci sarà una mia attenzione particolare alle tematiche che riguardano il centro storico, i quartieri, come la città antica e la città moderna si collegano, e soprattutto una visione verso il futuro con una rigenerazione che nel PNRR è la voce sostanziale che dà speranza a centori come il nostro. Quali sensazioni dopo questa nomina? Sicuramente il momento ancora è caldo e quindi posso soltanto dire che è un'emozione, perché è un'esperienza nuova per me. Ho già vissuto impegni istituzionali nel tempo, non mi era mai capitato di vivere un'esperienza del genere, per cui pronto a cominciare, sicuramente in carico di impegni, di voglia, ritengo che ce ne sia di bisogno per tutti, e non posso far altro che sperare che tutto vada come immagino possa andare, come vorrei che andassi. Come nasce questo nuovo ingresso al Comune? Beh, diciamo che il mio rapporto personale con Roberto Gambino nasce da lontano, è un rapporto di conoscenza prima e di stimo reciproca dopo. Ho avuto sicuramente modo di apprezzarlo durante la campagna elettorale di tre anni fa, alla quale ho preso parte e ho tifato per lui, è un fatto noto e che non posso che ricordare con piacere. Nel tempo c'è stata sempre l'opportunità di scambiare opinioni, di scambiare pensieri, di confrontarsi e anche di condividere. Una volta chiesta la mia disponibilità per le mie competenze, per il mio trascorso professionale, ho onestamente pensato che potesse essere un'occasione valida per me, quindi per tutti i colori quali ovviamente avrebbero condiviso questo progetto. Non posso far altro che confermare che non viene da lontanissimo, non viene da lontano. Ed è una cosa che era possibile immaginare solo e soltanto per chi conosce anche il modo con il quale il sindaco ha sempre intenzione di circondarsi di persone che possano con competenza svolgere ognuno il proprio mestiere, il proprio lavoro, il proprio ruolo. Quale sarà il suo primo atto? Conoscere. Non posso che innanzitutto conoscere. Il primo atto non sono in grado di dirvelo perché onestamente essendo insediato da poco meno di mezza giornata devo avere il tempo chiaramente di poter conoscere davvero sia le dinamiche che le persone. Per cui a tutti i livelli devo entrare nei meandri dei meccanismi della macchina comunale, per cui non lo so. Il cadavere di un uomo, crocifisso Scepi, un sessantenne, è stato rinvenuto a Gela, in un lago artificiale. Dell'uomo i familiari non avevano più notizie da ieri. Ricerche sono state effettuate da vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. Morì dopo gravi ustioni nella notte tra il 31 ottobre e il primo novembre. Otto indagati. Ci sono otto indagati per la morte del 31enne San Cataldese Alessandro Tomasella, deceduto il 31 ottobre scorso per le ustioni di secondo e terzo grado, riportate probabilmente per un ritorno di fiamma nel corso di una grigliata con alcuni amici. Omicidio colposo, il reato ipotizzato dai magistrati della procura di Catania, competenti sull'indagine, visto che il decesso è avvenuto all'ospedale Cannizzaro della città etnea, i quali hanno deciso di aprire un'inchiesta per fare piena luce sulla vicenda a seguito della denuncia presentata dai familiari di Tomasella. Oggi sarà eseguita dunque l'autopsia sul corpo del giovane da un collegio di tre medici legali. Al centro dell'inchiesta ci sono alcuni componenti del personale sanitario del Sant'Elia, tra medici e infermieri, anche l'autista dell'ambulanza con cui Tomasella venne trasferito all'ospedale Cannizzaro di Catania, oltre a uno degli amici dello sfortunato giovane. Diversi punti da chiarire, in particolare sulle modalità e soprattutto la tempistica dei soccorsi prestati ad Alessandro Tomasella in quei tragici momenti dello scorso 31 ottobre. Il giovane morì per un arresto cardiaco poco dopo l'arrivo all'ospedale Cannizzaro di Catania, struttura dove era stato accompagnato per ricevere cure migliori per le ostioni subite. Uno dei punti centrali riguarda proprio la modalità di trasporto. Quando il 31enne venne accompagnato al Sant'Elia era stato disposto il trasferimento a Catania, ma l'elisoccorso in quel momento era impegnato in un altro servizio e quindi si decise per il trasporto in ambulanza. Guardone scoperto a Pian del Lago, nota dell'Associazione Polisportiva Alba Verde. All'indomani della vicenda del sacerdote che ha spiato dentro lo spogliatoio, sono arrivate le dichiarazioni del presidente della squadra, Oriana Mannella, che ha dichiarato sono profondamente dispiaciuta che il nome dell'Alba Verde o comunque di una società di pallavolo femminile di Caltanissetta sia rimbalzato sui social per vicende extrasportive. Al di là delle speculazioni che si possono fare sul ruolo rivestito dall'individuo di cui non conosciamo il nome, ha continuato Oriana Mannella, resta la gravità del fatto per una vicenda che ha contornio sé, al di là delle giustificazioni sicuramente risibili che ha fornito di prima acchitto il protagonista. Siamo disgustati, ha proseguito la presidente dell'Alba Verde, e condanniamo qualsiasi forma di violenza a tutti i livelli. Mi sento in dovere di manifestare la mia vicinanza alle mie giocatrici, soprattutto le minorenni, in quanto, come donna, mi immedesimo in quello che stanno provando, anche perché qualcuna di loro si è posta la domanda circa la possibilità che da tempo potevano essere osservate. Come società, prosegue la Mannella, stiamo seguendo con attenzione la vicenda, cercando di evitare facili strumentalizzazioni, ma al contempo per capire se e come dovremmo intervenire nel caso in cui la vicenda dovesse avere risvolti di tipo giudiziario. Sommatino, traffico e combustione di rifiuti in sei agli arresti domiciliari. Questa mattina i carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare messa nel corso delle indagini preliminari che sottopone agli arresti domiciliari sei persone residenti nella città di Sommatino e appartenenti al medesimo nucleo familiare, a carico dei quali sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di traffico illecito di rifiuti e combustione illecita di rifiuti. Secondo le indagini che sono iniziate nel 2020, nella stazione ferroviaria del comune di Sommatino sarebbe stata realizzata una discarica abusiva sottoposta a sequestro preventivo sin dal giugno 2021. I rifiuti raccolti nella stessa area sarebbero stati in parte bruciati e in parte sarebbero stati venduti a ditte specializzate. Contestualmente all'esecuzione delle ordinanze è stato effettuato il sequestro preventivo richiesto dalla Procura e disposto dal GIP di un veicolo utilizzato per il trasporto illegale dei rifiuti. Gela, servizi straordinari di controllo del territorio, 4 arresti e 13 denuncia. A seguito dei fatti avvenuti a Gela, lo scorso 24 ottobre si è tenuta in Prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con cui è stata disposta un'ulteriore intensificazione di servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio. Già martedì e mercoledì le unità della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno eseguito numerosi controlli per cercare armi esplosivi e stupefacenti in specifiche zone della città che sono luoghi legati al mondo della delinquenza. Due gli arresti eseguiti in flagranza di reato, uno di un 49enne che per sottrarsi al controllo ha fatto resistenza e violenza e minaccia a pubblico ufficiale e l'altro, un 29enne, evaso dagli arresti domiciliari eseguiti su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Gela. I due uomini sono adesso agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Altri due sono gli ordini di carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica Gelese. Il primo nei confronti di un 29enne condannato a scontare una pena di 6 anni e 4 mesi per diversi furti aggravati. Il secondo nei confronti di un 38enne condannato a scontare una pena di 4 anni, 5 mesi e 13 giorni di reclusione per reati di detenzione spaccio, di sostanze stupefacenti. Ben 13 le persone denunciate in stato di libertà del commissariato di Gela, vario titolo per reati contro il patrimonio e contro la persona. Sequestrato anche un fucile a canne mozze con matricola a brasa e sequestrata anche cocaina e hashish per uso personale nei confronti di due assuntori segnalati alla Prefettura Nissena. Nel corso di 12 posti di controllo effettuati in città sono state identificate 508 persone di cui 293 gravate da pregiudizi di polizia, 8 le perquisizioni eseguite, controllati 224 veicoli, 56 tra arrestati e detenuti ai domiciliari, liberi, vigilati e sorvegliati speciali, rilevate 40 infrazioni al codice della strada con il sequestro di tre veicoli. Momenti di paura nel centro storico di Caltanissetta per una notevole fuoriuscita di fumo da una rivendita di kebab. Tanta paura ieri pomeriggio in centro storico, dove sembrerebbe che una frigitrice avrebbe preso fuoco dentro la kebaberia che si trova all'ancolo di via Palermo. Il proprietario del locale, un ragazzo afgano, si era allontanato per mezz'ora lasciando la frigitrice accesa, ignaro che da lì a poco sarebbe accaduto quello che è successo. I vigi del fuoco, tempestivamente chiamati non appena il fumo ha iniziato a diffondersi all'esterno nella via, sono arrivati con due mezzi e in poco tempo hanno domato il pericolo. Il locale ha portato piccoli danni e per fortuna non ci sono stati feriti. Due furti notturni a Caltanissetta nelle vie San Giovanni Bosco e Consultore Benintendi Nella notte tra martedì e mercoledì si sono verificati due furti in altrettanti barra H24 della città. Le attività prese di mira dai ladri si trovano in via San Giovanni Bosco e in via Consultore Benintendi. I malviventi in entrambi i casi hanno preso di mira le gettoniere alla ricerca di denaro, riuscendo a portare via diverse centinaia di euro. Infatti è di circa 200 euro il bottino del furto di via San Giovanni Bosco nel corso del quale sono anche state danneggiate tre macchinette. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle volanti e i componenti della scientifica mentre per l'altro episodio i danni devono ancora essere quantificati. Da capire innanzitutto se sia stata la stessa mano ad agire in entrambi i casi e su questo aspetto potrebbe essere d'aiuto l'eventuale presenza all'interno delle due attività commerciali o nei loro paraggi di impianti di videosorveglianza che potrebbero avere filmato quanto accaduto. Controlli per la tutela dell'ambiente e l'impegno dei carabinieri nel territorio nisseno. La tutela dell'ambiente continua a essere la stella polare dell'azione politica europea e di ogni singolo Stato soprattutto nell'ultimo decennio. Nel nostro Paese l'arma esprime una straordinaria funzione di prossimità ambientale compie quotidianamente un'opera di prevenzione e repressione degli illeciti in materia ambientale e forestale contrastando i crimini in materia di rifiuti. Non a caso la natura è la protagonista del calendario storico 2023. La missione verde dell'arma e che a livello nazionale può contare la più grande forza di polizia ambientale d'Europa si concretizza nel territorio nisseno non solo nella prevenzione e nella repressione degli illeciti legati all'ambiente ma anche nella presenza dei carabinieri nelle scuole allo scopo di promuovere tra i giovani l'educazione ambientale sensibilizzandole al rispetto della nostra terra e alla salvaguardia delle bellezze naturali del nostro territorio. Come sottolineo il colonnello Vincenzo Pascale comandante provinciale dei carabinieri di Caltanissetta la funzione di prossimità ambientale dell'arma è assicurata in questa provincia dalla quotidiana attività svolta dai presidi dislocati in tutta la giurisdizione e dal prezioso e qualificato supporto dei carabinieri forestali del Centro Anticrimine e Natura di Agrigento e dal Nucleo Operativo Ecologico di Caltanissetta presenta Gela è questo l'humus che ha ispirato il progetto nazionale No Albero per il Futuro che prevede la donazione alla messa a dimora nelle scuole italiane da parte dei carabinieri di migliaia di giovani alberi fra questi l'albero del giudice Falcone un particolare fico che cresce nei pressi della casa del giudice simbolo della lotta alla mafia le cui gemme sono state duplicate nel moderno Centro Nazionale Carabinieri per la Biodiversità Forestale di Pieve e Santo Stefano in provincia di Arezzo e che sono state donate all'Istituto Leonardo Da Vinci di Niscemi lo scorso 7 novembre per tutti questi motivi nelle ultime settimane è stata incessante l'opera di protezione del territorio da parte dei carabinieri di Caltanissetta che a Dele a buon pensiere hanno deferito in stato di libertà due persone titolari di un'azienda ortofrutticola ed un'impresa edile per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata con il conseguente sequestro di oltre 4.000 metri quadrati di superficie ai fini della successiva bonifica quattro aree demaniali per un totale di circa 7.000 metri quadrati sulle quali erano stati rinvenuti cumuli di rifiuti anche speciali pericolosi in gran parte riconducibili ad attività di demolizione edilizia inoltre lo scorso 4 novembre a Gela i carabinieri hanno accertato la presenza di un allevamento abusivo con quattro cavalli con la conseguente denuncia all'autorità giudiziaria di un 62enne e di tre depositi incontrollati di rifiuti pericolosi per una superficie complessiva di circa 800 metri quadrati il presidente della regione Renato Schifani ha partecipato alla seduta di insediamento dell'assemblea regionale siciliana il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha partecipato questa mattina alla seduta di insediamento della diciottesima legislatura dell'assemblea regionale siciliana ad accoglierlo a Palazzo dei Normanni il presidente dell'assemblea uscente Gianfranco Micicchè i due si sono soffermati qualche minuto a parlare in sala cinese mistero su cosa i due esponenti politici di Forza Italia si siano detti ma davanti ai cronisti la frase che è uscita è tutto un programma non abbiamo nessun accordo mentre secondo quanto emerso negli ultimi giorni le cose sembravano essere diverse l'atmosfera non sembra essere delle più rilassate tra i due anche perché l'ex presidente Ars ha dichiarato di sentirsi tenuto al di fuori della maggioranza e di reputare il governo che sta nascendo peggiore di quello che lo ha preceduto la nuova legislatura regionale sembra dunque iniziare all'insegna delle liti interne al partito del presidente della regione Questura di Caltanissetta alvia le elezioni per istruttore di primo soccorso il medico della polizia di stato il dottore Salvatore Di Benedetto dirigente dell'ufficio sanitario della Questura e il suo staff hanno iniziato il corso di istruttore di primo soccorso tenuto da un istruttore del SEUS Sicilia Emergenza Urgenza Sanitaria 118 una volta formati gli istruttori della polizia di Stato procederanno con la formazione interna del personale della Questura dei commissariati e delle specialità in servizio nella nostra provincia il corso di primo soccorso ha lo scopo di fornire al lavoratore designato le conoscenze necessarie per la gestione di un'emergenza tale corso permette di acquisire le adeguate capacità al fine di avvisare correttamente e tempestivamente i soccorsi ed assistere la persona che è ingappata in un incidente fino all'arrivo dei soccorsi oltre al dottor di Benedetto abbiamo ascoltato il poliziotto Salvatore Amico che alcuni mesi addietro si è trovata a soccorrere per strada una cittadina la polizia di Stato come tutte le forze dell'ordine ha tra le sue missioni principali il soccorso pubblico le città più grandi in Italia quindi sede di questura di commissariato hanno al proprio interno addirittura un ufficio che porta nel nome il soccorso pubblico è l'UPGSP l'ufficio di prevenzione generale del soccorso pubblico che è tra l'altro l'ufficio più noto alla popolazione che vede intervenire H24 automezzi e personale per il soccorso alla popolazione e le diverse esigenze spesso capita che queste esigenze di soccorso siano miste cioè abbiano implicazioni di polizia implicazioni tecniche e implicazioni di soccorso alla persona è quindi importante che il personale di polizia soprattutto dopo l'epoca covid che ci ha visto orientare le energie verso tutt'altra direzione venga nuovamente e aggiornatamente qualificato verso questa attività di soccorso alla persona per quanto laico abbiamo fatto la scelta di rifare la formazione intanto dei formatori cioè di noi stessi medici infermieri e personale che opera negli uffici sanitari nell'ufficio sanitario di Caltanissetta meglio per poter riavviare nuovamente alla formazione e alla standardizzazione del personale durante l'espratamento del servizio di controllo del territorio in questa città mi trovavo di volante e notavo una donna a casciarsi per terra nell'immediatezza la raggiungevo notavo che il battito alla carotide e al polso era assente era pure assente il respiro quindi immediatamente mi sono prodigato ad effettuare il massaggio cardiaco e contestualmente ho chiamato personale del 118 che giungeva sul posto e ha preso in carico la signora fortunatamente agendo con tempestività la signora comunque si è ripreso questi corsi sono molto importanti la nostra amministrazione di appartenenza ci dà la possibilità di effettuare questi corsi in modo da avere una linea madre così da lavorare comunque con le massime capacità operative e ottenere il massimo risultato sembra tutela e protezione del cittadino Caltanissetta monumento ai caduti Italia Nostra sollecita il restauro il presidente di Italia Nostra Leandro Iannì sollecita un intervento di restauro per il monumento ai caduti il ricordo dei caduti delle guerre nel nostro paese Italia Nostra ha indetto per il 4 novembre la giornata del monumento ai caduti tutti i comuni anche i più piccoli conservano un patrimonio diffuso di monumenti di arte e di memoria unico nel suo genere spesso di buona qualità sempre realizzato con materiali di pregio anche Caltanissetta ha il suo monumento ai caduti il 4 novembre in occasione della giornata dell'unità nazionale delle forze armate ai piedi del monumento ai caduti di Viale Regina Margherita si radunano le autorità civili militari e religiose in presenza di cittadini e scolaresche il rituale prevede la cerimonia dell'alza bandiera la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica del Ministro della Difesa la deposizione di una corona da loro da parte del prefetto e la partecipazione di membri dell'associazione di ex combattenti vittime civili e reduce di guerra Italia Nostra però evidenzia il meteocrestato di conservazione del monumento ai caduti realizzato a suo tempo da Cosimo Sorgi si notano marmi di velti fessurati e manganti l'ossidazione dei due cannoni in ferro dei lati della statua è stato di degrado pertanto l'associazione sollecita un intervento di restauro da parte del comune di Calfanissetta e della soprintendenza ai beni culturali al fine di restituire piena dignità e integrità a questa peculiare testimonianza della storia e dell'arte italiana presente nella nostra città Covid in Sicilia bollettino settimanale contagi in calo somministrate 1444 quinte dosi Covid il bollettino settimanale prodotto dal dipartimento asso e parla di contagi ospedalizzazioni in calo in Sicilia ad oggi sono state somministrate 1444 quinte dosi guardando la settimana che va dal 31 ottobre al 6 novembre la curva epidemica che in riferimento ai nuovi positivi scende rispetto la settimana scorsa del 6,14% pari a 8.135 l'incidenza è di 169,43 casi per 100.000 abitanti il tasso più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Messina Trapani e Siracusa ad essere più a rischio sono le persone dai 60 anni fino agli over 90 soprattutto se soggetti fragili diminuiscono le nuove ospedalizzazioni sulla campagna vaccinale dal 3 al 9 novembre il 25,8% tra i 5 e gli 11 anni sono stati vaccinati con almeno una dose hanno completato il ciclo primario 66.487 bambini pari al 21,14% gli over 12 vaccinati con almeno una dose sono il 90,84% mentre ha completato il ciclo primario di vaccinazione l'89,49% dell'obiettivo regionale i vaccinati con terza dose sono il 72,35% degli aventi diritto dal 7 settembre il Ministero della Salute ha autorizzato la somministrazione della dose booster aggiuntiva con i vaccini mRNA bivalenti origina all'omicron BA1 agli over 60 alle persone di elevata fragilità agli over 12 in attesa della terza dose includendo anche operatori sanitari operatori e ospiti delle strutture residenziali per anziani e donne in gravidanza dal 23 settembre è stato autorizzato l'utilizzo dei vaccini mRNA aggiornati alle varianti BA1 e BA4,5 per la somministrazione della quarta dose su richiesta dell'interessato a tutti gli over 12 che abbiano ricevuto la terza dose da almeno 120 giorni infine il Ministero ha dato il via all'uso dei vaccini bivalenti in quinta dose ai soggetti con una marcata compromissione della risposta immunitaria e dal 17 ottobre la somministrazione è stata estesa agli over 80 agli ospiti in RSA e alle persone over 60 con fragilità Alla riscoperta dell'evoluzione urbanistica di Caltanissetta attenzioni puntate sull'Ottocento parla l'architetto Giuseppe Saggio Un viaggio alla riscoperta dell'evoluzione urbanistica della città soprattutto analizzando un periodo all'inizio dell'Ottocento quando Caltanissetta affronta il passaggio da città feudale a Capovalle un'osservazione attenta di tutte quelle tracce ed elementi che sono visibili occhio nudo ma interpretabili però solo dopo aver conosciuto la storia Nonostante il tempo incerto numerosi cittadini hanno partecipato la scorsa domenica all'appuntamento nisseno di Salva l'Arte e la campagna nazionale di Lega Ambiente ascoltando le spiegazioni e i racconti dell'esperto Giuseppe Saggio Ho spiegato l'evoluzione di Piazza Botteghelle che chiaramente ormai non esiste più perché il residuo è la parte iniziale di Viale Regina Margherita quando alle fine dell'Ottocento si è pensato di demolire la spina dell'Isola del Tondo che in sostanza era coincidente con il marciapiede centrale e quindi è stata continuata la larghezza dei 30 metri della piazza e si è spostato il Belvedere che si trovava proprio nel posto dove c'è la scuola San Giusto che già era stato in parte demolito per costruire il palazzo della provincia nel 76 e quindi poi sono state demolite tutte le case con tutti i risarcimenti che i proprietari hanno chiesto perché chiaramente si è abbassata di più di 10 metri la quota stradale quindi i danni sono stati notevoli dopo che Caltanissetta diventa capovalle è chiaro che la città doveva rendersi più moderna e quindi avere le strade carrabili per cui mentre prima i collegamenti erano semplicemente a piedi a dorso di mulo con qualche carretto con l'ufficialità degli uffici diciamo della nuova provincia e chiaramente le carrozze la rappresentanza era diversa per cui la carrabilità delle strade è stata necessaria quindi abbiamo percorso tutto corso un verto la parte iniziale e abbiamo visto che sono rimasti i segni delle sottomurazioni di questo abbassamento di quota in certi punti anche di notevole entità quindi sono state costruite diverse sottomurazioni ci sono i plindi che reggono i cantonali insomma tutta una serie di elementi che ci raccontano perché tutta la quota della provvidenza che è facile vedere e intuire è più alta rispetto alla quota del corso e quindi dopo sono stati realizzati questi raccordi con le scalinate proprio per questo abbassamento di quota della strada è tempo di muffolette e biscotti di San Martino nel segno di un'antica tradizione siciliana come avviene quasi sempre in occasione di una festività le tavole dei siciliani e quindi anche dei nisseni si arricchiscono di pietanze tipiche del periodo per lo più dolci subito dopo la commemorazione dei defunti accompagnata dalla frutta martorana infatti si celebra San Martino con le tradizionali muffolette e i biscotti che ricordano il nome del santo prelibatezze che vengono gustate anche qualche giorno prima della festa è una tradizione antica che l'11 novembre è San Martino e in ogni provincia ha una tradizione diversa perché per esempio qui da noi si vanno queste dolce ricotte e mielo oppure in alcuni posti vanno quelli con la ricotta il caccio cavallo la milsa che sono quelle più umide oppure biscotti che ci sono sia quelli morbidi di San Martino che sono quelli più diciamo moderni perché in antichità si facevano quelli belli duri perché dovevano essere ricottati e per la tradizione voleva che si dovevano bagnare nel vino nuovello numerose le varianti in tutta la Sicilia a fare la differenza e soprattutto il condimento scegliendo tra l'opzione dolce o salata ci sono tante preparazioni in realtà perché la gastronomia siciliana ha tante preparazioni perché poi ogni località ha la sua tradizione qui da noi a Caltalissetta la più popolare è la tradizionale con ricotta e miele si può fare sia di pasta dolce che di pasta di pane aggiungendo all'imbasto dello zafferano e del finocchietto finocchietto d'ane cioè finocchietto ingranato si dice ricotta e miele per la tradizionale dolce altrimenti si può fare salata con ricotta sempre fresca olio appena macinato quindi freschissimo e poi si aggiungono le acciughe il cacciocavallo il sale il pepe poi adesso poi è anche questione di gusto c'è chi li fa col tritato bianco chi li fa col ragù c'è chi li fa con ricotta cacciocavallo e milza si può spaziare si può variare anche per quanto riguarda i biscotti si prevedono diverse preparazioni i biscotti di San Martino sono sempre tanti sono tante varietà perché la Sicilia varia spazia nel senso che abbiamo diversi biscotti di San Martino abbiamo il biscotto morbido abbiamo il biscotto duro tricottato abbiamo il biscotto decorato alla palermitana poi abbiamo le varie forme che distinguono questo biscottino che comunque si fanno le mafaldine si fanno delle forme un po' particolari e si aggiungono tutti i semini dentro sia di sesamo sempre che di finocchietto finocchietto o ance sì in effetti questa è anche una questione di gusto anche su quello è tutto vi lascio al meteo e alle informazioni di pubblica utilità grazie per l'attenzione e appuntamento rinnovato alle prossime edizioni un saluto ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo nella giornata di venerdì tempo sull'Italia tornerà a migliorare per effetto di questo vasto campo anticiclonico che si posiziona sull'Europa centrale che tende a irrobustirsi temporaneamente favorendo dunque un venerdì di San Martino all'insegna della stabilità un po' ovunque vediamo nel dettaglio la mappa della nuvolosità che vede giusto qualche addensamento residuo al sud ma anche sulle coste adriatiche centrali al mattino e velature di passaggio poi nell'arco del giorno per quanto riguarda quindi al tempo che ci attende sul nostro paese avremo dunque una giornata all'insegna della stabilità con un po' di nuvolosità come dicevo da segnalare al mattino sulle coste adriatiche qui con qualche pioggia tra notte e prime ore del giorno ma comunque in via di miglioramento un po' di nuvolosità anche al sud con qualche locale fenomeno sulla Sicilia più orientale ma con tempo che andrà migliorando anche qui tanta stabilità altrove con temperature massime che riprenderanno a salire punte anche di 22-23 gradi sul versante terrenico tutti i dettagli comunque li trovate sull'app di Trebi Meteo Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno Caltanissetta Servizio diurno Al Duomo Via Filippo Paladini Servizio notturno La China Via Fraggia Ratana Grazie a tutti i due